Un lungo lavoro di ricerca che ripercorre la storia di Termoli richiama l'Adriatico attraverso una lettura particolare che coinvolge il mare, l'ambiente e la cultura, evidenziando nel suo insieme la vita della marineria. Antonio D'Ambrosio ha raccolto testimonianze, materiali ed esperienze, tasselli di uno studio antropologico che si è soffermato su piccoli e grandi aspetti del lavoro e di una comunità che ha saputo custodire valori e tradizioni. Il film documentario è stato presentato al Cinema Oddo della Parrocchia Santimoteo in collaborazione con l'associazione La Casa del Libro, diretta da Daniela Battista. Con questa visione, con la lettura anche del DVD che impreziosisce la lettura del libro, la lettura dei due libri, Rosso Triglia e Storia Termoli, Storia dell'Alimentazione, ovvero la felicità legata ad uno scoglio, il DVD mette in condizione di fare una sintesi attraverso il quale noi leggiamo le cose che non sempre con le parole riusciamo a dare senso o a diamo spessore. Un contributo culturale che consolida l'identità di un territorio. Credo che abbia completato la ricerca perché ha messo in campo una quantità di immagini, di foto, di uomini che hanno condiviso un percorso storico e hanno prodotto, il prodotto finale è quello della giusta lettura di una tradizione.